In questo momento c'è sempre stata una gran fioritura di attaccanti, ma in questo momento mi pare che ci sia una ricchezza enorme, Higuain, Dybala, Aguero, Bouillet, Altorino, a parte Messi ovviamente. Secondo lei chi è il migliore di tutti o chi lo può diventare? No, senza essere dubbio, l'Angeltina ha un potenziale grandissimo di attaccanti di tutti quelli che ha avuto da lei, però senza avessi tutti questi che abbiamo parlato non credo che viena nel merito senza di lui, lui è quello che comanda l'attacco argentino. L'abbiamo visto, ho visto la partita, un troppo, perché io non ho sapevo la serie del partito, però è un potenziale, un potenziale, un potenziale, un potenziale, un potenziale, un potenziale, dico perlacare, un potenziale, un potenziale, un potenziale che sarà un potenziale, e la natura lo sa, lo sa, io parlavo con lui, però, sai, quando a te manca il migliore il migliore in campo, che è messi, come si fa dura, è mettere in campo quello che fa non si fa già le cose, le migliore cose che il flammese, il pollo di bala, l'higuaïna, l'abuero, cosa che non c'era grandissimi atacanti, però manca, manca il numero uno Il castello? Diego, il castello è un po' lamentato che non sei il nazionale, questo che è detto Grazie